Grazie a tutti. 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 Alcuni sono chiusi anche in questi anni, Fulbia Caligiuri. Grazie a tutti. 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 fanno veramente sto lavoro, quindi ho seguito molti agronomi, ho chiesto consigli, infatti il progetto di quest'anno era di portare avanti quello di prendere dei ragazzi che escono da queste scuole e farle venire sui nostri terreni dove loro insegneranno a noi quello che alla fine il nostro limite, non avendo studiato, su quel settore ci porta. Quindi vogliamo creare come dei stage, delle esperienze sul campo, mirati dove poter insegnare noi quello che stiamo producendo e loro quello che hanno imparato dalla scuola per fare questo scambio di sinergia. Direttore Salvino. La formazione è fondamentale in questi settori, perché sono settori diciamo in rapida evoluzione. Questo è un aspetto diciamo abbastanza delicato perché nel passato comunque ritengo, passato significa comunque passato molto remoto, in qualche modo l'Arsa, l'azienda regionale di sviluppo agricolo abbia in qualche modo diciamo contribuito ad innovare prodotto e processo in agricoltura. Oggi questo ruolo sta avvenendo bene e quindi si sta anche pensando a una nuova mission della nuova Arsac che sia diciamo più consona a quelle che sono le necessità. Noi su questo vogliamo investire, su questo aspetto, no? Cito un esempio nel piccolo di Expo. Expo ci saranno, non l'ho detto prima, ci saranno tre eventi, diciamo tre cene, no? Ci saranno tre cuochi famosi, non dico i nomi per non fare pubblicità, in delle regole Expo che sono molto rigide, nel senso che in cucina ci deve essere il cuoco e l'aiuto cuoco, nessun altro. Noi abbiamo voluto, ad esempio, che cinque ragazze della scuola alberghiere calabrese fossero presenti diciamo in questa manifestazione proprio, anche se probabilmente non faranno niente, ma già come dire, per respirare un'area internazionale credo che aiuti la loro formazione professionale. Io penso che gli imprenditori, soprattutto quelli piccoli, diciamo quelli che partono con le iniziative, mi riferisco ai primi insediamenti, ai giovani agricoltori, hanno bisogno di competenze, di competenze per un approccio non solo agronomico al problema, perché se io debbo impiantare lo zafferano in un posto, mi devo accertare che le condizioni del terreno siano propense diciamo a quella cultura. Questo è un aspetto, ma soprattutto io poi debbo avviare un'iniziativa che economicamente questa iniziativa si sostenga e mi dia una possibilità di rendita. E spesso come dire, spesso diciamo queste informazioni, queste conoscenze, come dire, non sempre vengono, io non voglio fare un attacco né agli agronomi né agli economisti che a volte assistono alle prati, ma io ritengo, voglio dire che ci debba essere sempre di più una professionalità che cresca, perché le problematiche, i vincoli che oggi ci sono in una realtà imprenditoriale come quella agricola sono molto difficili. Noi come Regione Calabria, mi riferisco sempre, ci stiamo muovendo anche in un'altra direzione. La Regione Calabria è una regione che ha un alto indice di terreni abbandonati, incolti, tra cui molti di questi terreni appartengono a enti regionali o appartengono al demanio regionale. È stata presentata una proposta di legge per far sì che questi terreni vengono messi, tra virgolette, possono essere assegnati o riassegnati a chi ha necessità di terreno per nuove attività oppure per ambliare la produzione, perché oggi, come dire, quello che è stato negli anni 40-50 una grande conquista di democrazia, la riforma agraria che ha frastagliato la grande proprietà terriera, oggi questo frastagliamento della proprietà terriera è un vingo alla crescita delle imprese perché i numeri, le quantità su che produrre, come dire, non sono più quelle di una volta e quindi c'è questa necessità di ridare la terra, a volte diciamo di ridare la terra ai contadini era, come dire, un aspetto importante, ma oggi rendere questi terreni abbandonati rende lì produttivi. Mi trovo d'accordo fino ad un certo punto, nel senso che abbiamo esempi molto grossi di come territori con maglie poderali ancora più piccole delle nostre, noi siamo intorno a tre ettari, ci sono anche quelli di 0,4 nel nord, che pur avendo queste maglie poderali così piccole hanno fatto dell'associazionismo, la loro bandiera e sono riuscite ad arrivare insomma nei mercati che volevano. Quindi è giustissimo dare i terreni abbandonati, insomma, soprattutto se regionali a chi vuole investire, continuare a farlo o ex novo, è anche importante come dicevo prima però favorire che la produzione che c'è già presente venga accorpata e venga fatta massa critica, perché se noi continuiamo a produrre nello stesso modo pochi passini avanti facciamo, perché insomma poi dobbiamo sapere anche apprendere da chi ha fatto le cose meglio di noi e riuscire insomma a copiarli tra virgolette per arrivare, non dico allo stesso beneficio, però a qualcosa di simile. Volevo aggiungere un'altra cosa, noi come Confagicoltura Nazionale, non solo Cosenza, partecipiamo con varie iniziative ad Expo, che sono sia dentro Expo ma anche fuori Expo, perché dentro Expo come dicevo prima insomma ci sono dei cubi multimediali all'ingresso del Palazzo Italia, quindi insomma è tutto molto visivo, però abbiamo pensato ma la sera quando tutte le persone vanno via di là e hanno bisogno un attimo di rilassarsi, allora come Confagicoltura abbiamo preso in gestione la vigna di Leonardo, che è una parte una struttura splendida che veramente ci riporta nella tradizione, nella storia appartenuta appunto alla famiglia degli Atellani, ma dove è vissuto Leonardo e dove c'è questa mitica vigna che è stata rimpiantata per l'occasione Confagicoltura con l'Istituto Agrario, con l'Ordine degli Agronomi e fra poco inizierà proprio la vendemmia, perché era importante per noi creare anche un posto dove vedersi al di fuori Expo tra buyer, giornalisti, possibilità insomma di far assaggiare i nostri prodotti, perché là si creano proprio insomma delle possibilità di igiena, di assaggio delle produzioni, perché è vero che lì è tutto multimediale, però ci teniamo anche a fare assaggiare la qualità dei nostri prodotti per vedere di che cosa stiamo parlando, avevamo pensato ecco questa è proprio la vigna, all'interno di questo giardino ci sono proprio, si tengono delle cene splendide, spero insomma una di queste cene, ottobre, prevista con la regione, con i Gall, perché ancora insomma ci sono queste attività che abbiamo in itinere, ed è una delle cose sulle quali credo, nel senso che vediamo di che cosa siamo capaci, facciamole assaggiare e raggiungiamo in questo modo insomma anche i mercati più lontani con i buyer e i giornalisti. Allora io lo chiedo dal dirigente Salvino, perché voi nell'elaborare nel PSR chiaramente avete dovuto fare un lavoro preliminare anche di fotografia del settore, quindi quali sono le criticità che avete più evidenziato anche nel PSR su cui in particolare dovete lavorare, insomma facendo anche un po' di autocritica sul passato? Ovviamente la redazione di un programma di sviluppo rurale, qual è un PSR, è un lavoro in mano insomma, no? Tra l'altro non essendoci un assessore all'agricoltura, so che c'è il consigliere regionale Mauro D'Acri che sta seguendo... è un programma diciamo che sono più di 1200 pagine insomma, quindi solo a scriverle insomma è qualcosa diciamo di molto pesante e tutto deve essere correlato da un'analisi SWOT sui punti di forza, sui punti di debolezza del settore e poi all'interno del settore di ogni misura che si vuole diciamo attivare, per cui se tu vuoi attivare la misura della competitività o del diciamo dell'organizzazione dei produttori devi fare l'analisi SWOT che dica i punti di forza, i punti di debolezza, le opportunità e i rischi diciamo attivando di quella misura e quindi diciamo è come dire un aspetto fondamentale diciamo di questo PSL e inoltre devi fare le condizionalità ex ante per poter diciamo avviare il tutto. quindi ecco quindi i punti su cui noi puntiamo che sono poi sono dedotti da quest'analisi diciamo che abbiamo fatto è appunto questa della competitività e dell'innovazione delle imprese in un quadro di sostenibilità ambientale di tutto diciamo il programma. e in questo sono ovviamente attivate e sono descritte le varie misure del PSR e si punta soprattutto al ricambio generazionale con insediamenti, nuovi insediamenti, noi abbiamo insediato nel vecchio PSR circa 900 nuovi giovani imprenditori, con il nuovo PSR vogliamo insediarne altri altri mille che come dire a fine programmazione sarà se ci riusciamo un buon risultato. Un buon risultato tra l'altro l'unico dipartimento diciamo che sorride nella gestione dei fondi comunitari e proprio quello dell'agricoltura dove si è speso di più rispetto agli altri dipartimenti. Diciamo che il PSR ha un buon indice di spesa, noi siamo, mancano tre mesi diciamo alla chiusura, al fatidico 31-12-2015 dato in cui i rubinetti dei pagamenti vengono chiusi e noi stiamo come dire stiamo lavorando a tambur battente per cercare di spendere tutto ma soprattutto spendere bene. Noi siamo in overbooking su tutte le graduatorie, quindi abbiamo diciamo mandato domande di concessione di finanziamento in più rispetto a quelle che sono diciamo le risorse perché appunto c'è una mortalità naturale nelle domande, stiamo scorrendo graduatori diciamo a più non posso, da qua nella prossima settimana verrà emanato un nuovo bando, qualcuno può dire voi siete pazzi insomma, però è così perché noi non dobbiamo dimenticarci di quello che è successo il 12 di agosto a Rossano e a Corigliano dove i danni che ha subito il sistema agricolo sono danni ingenti, proprio ieri mi hanno portato la relazione con la quale sono stati stimati i danni in agricoltura, non l'ho ancora letta ma come dire la cifra che viene... Le organizzazioni di categoria parlavano di milioni di danni? Milioni... Sono pochi Sono pochi, sono pochi Adesso non lasciatemi dire il dato perché non l'ho letta attentamente quindi preferisco non dire diciamo un dato un dato, ecco noi faremo un bando sulla misura 126 del vecchio POR per poter far sì che le imprese agricole e i comuni che hanno avuto, i comuni e i consorzi di bonifico che hanno avuto danni diciamo in agricoltura possano come dire avere un ristoro diciamo di questi danni, quindi proprio per cercare di spendere spendere tutto, spendere bene, anche se mancano diciamo pochi mesi alla chiusura dei rubinetti Bisogna fare in fretta Bisogna fare in fretta Ovviamente queste sono poi attività finanziamenti che possono essere trascinati diciamo all'alcol Nella programmazione, diciamo con un handicap rispetto agli altri fondi insomma come dire che sono che noi come in agricoltura non abbiamo i cosiddetti progetti sponda Noi dobbiamo spendere e dobbiamo spendere tutto ma come dire siamo al servizio della Calab e delle aziende agricole per fare il nostro lavoro, cerchiamo di farlo bene Dirigente Salvino ci ha dato un'ottima notizia, uno scoop diciamo per noi di Expo Calab e di Laci perché insomma pubblicherete questo bando per sostenere le imprese, le aziende agricole danneggiate dall'alluvione dello scorso agosto tra Rossano e Corigliano quindi io immagino che con agricoltura Cosenza tra l'altro dove insomma sono presente tantissime aziende anche di quel territorio Sì, la maggior parte sono su quel territorio No, sono contentissima di questo ma ci tenevo a precisare una cosa anche lì attenzione alla spesa dei fondi i fondi vanno dati a chi ha subito i danni in questo caso le aziende agricole quindi non dobbiamo sostenere con questa emergenza altri enti dobbiamo sostenere chi ha subito i danni oppure se vengono dati degli importi a qualche altro ente che naturalmente deve fare dei lavori ma che vengono gestiti con questa finalità assoluta perché altrimenti rischiamo di fare un buco nell'acqua i fondi vanno gestiti sempre per danni alle strutture agricole questo non lo voglio dire poi per quanto riguarda gli altri danni che ci sono stati sono compiti di altri canali finanziari ma non dell'agricoltura alle strutture agricole e alle coltivazioni anche con la finalità che si parlava appunto di Calabria Verde con i soldi messi a disposizione ai consorsi di bonifica che vengono tutti quanti gestiti sempre appunto nell'ottica di andare a dove è possibile a intervenire sul sistema agricolo e alle aziende agricole che hanno subito insomma realmente i danni invece volevo aggiungere una cosa sul PSR nuovo perché il direttore è modesto e questa cosa non la dice però io ho un apprezzamento lo devo fare anche insomma il PSR non è iniziato però ci tenevo a dirlo c'è stato un coinvolgimento delle organizzazioni di categorie tutte che non ce lo ricordavamo da tempo se qualcosa non va all'interno di questo PSR la colpa non è solo della Regione Calabria ma ce la dobbiamo assumere noi perché abbiamo partecipato dall'inizio alla fine e questo non è una cosa scontata guardi nell'ultimo PSR noi non avevamo messo un dito o meglio avevamo fatto le nostre richieste ma leggendo un documento già fornitoci senza poter intervenire in alcun modo naturalmente queste richieste sono state non sono state prese proprio in considerazione né discutendone quindi una cosa mi sento di dirla e di ringraziare in questo caso la struttura che ha permesso questo coinvolgimento dell'organizzazione che non diamo più per scontato perché insomma sederci là al tavolo e parlare veramente del futuro della nostra agricoltura è una cosa che speravamo di fare e con questa dirigenza siamo riusciti a fare quindi c'è stato un cambio di passo è stato un cambio di passo rispetto al passato così dico, non è prevato no, dai, insomma ci auguriamo che chiaramente che continui insomma che continui e con i suggerimenti anche le proposte degli imprenditori agricoli che poi insomma sono direttamente coinvolti in queste misure insomma si riesca a raggiungere quegli obiettivi che insomma ci si è prefissati proprio nel documento programmatico non c'è dubbio la competitività, la crescita, l'internazionalizzazione anche delle nostre aziende e nuovi insediamenti produttivi allora Diego Mallamaci ci spiega insomma i prossimi eventi ai quali come azienda parteciperete insomma ci diceva già di Expo ma avete altre iniziative? sì, abbiamo fatto per la richiesta ci saranno le selezioni per la Nuga come dice il dirigente Savino e speriamo di partecipare anche in questa fiera che ci terrei tantissimo anche a partecipare perché è a livelli mondiali quindi vogliamo fare diciamo delle fiere abbastanza importanti per rappresentare la Calabria con il nostro prodotto di qualità poi stiamo creando altri eventi anche in diverse parti d'Italia per far conoscere il nostro prodotto quindi mirati in alcuni settori sempre come gastronomia vediamo da qui a qualche mese di stilare un calendario vedere dove fare queste promozioni del nostro prodotto e far conoscere lo zafferano in tutte le parti d'Italia zafferano calabrese e quindi per adesso è questo qua poi cerchiamo piano piano di crescere vediamo di trovare altre soluzioni grazie alla regione Calabria invece i prodotti insomma che voi producete con lo zafferano già ho detto dalla pasta lo zafferano del miele li esportate già con il vostro marchio dove li mandate? li esportiamo con il nostro marchio diciamo che nella zona di Milano siamo su Como anche Milano centro lavoriamo anche su Verona e l'estero invece siamo in Germania a Bruxelles che abbiamo avuto dei contatti grazie alla fiera che abbiamo fatto con la regione Calabria poi stiamo lavorando anche molto sulla Svizzera certo è una nicchia diciamo mirata a dei ristoranti o a dei negozi proprio diciamo di nicchia perché il prodotto come sappiamo costa tanto quindi però ci sta dando molta soddisfazione perché vediamo che la richiesta sta aumentando sempre di più forse ci stiamo facendo conoscere quindi diciamo che è molto apprezzato bene o male da qui a qualche anno vediamo di crescere ancora di più e vediamo tra l'altro incrementando anche la produzione infatti stiamo vedendo di acquisire altri terreni a parte quelli che ho io di mia proprietà per aumentare la produzione e inserire sempre i giovani che sia del mio paese e sia quelli che vogliono imparare a produrre zafferano la vostra azienda è nel Regino? Motta San Giovanni provincia di Reggio Calabria sì e vediamo un attimo di far crescere un po' e mettici in sinergia con altre aziende che spero cresceranno quelle del Cosentino che vogliono produrre zafferano e per vedere un attimo di fare anche un prodotto se riusciamo dopo quindi vediamo bella questa cosa comunque che i giovani invogliano altri giovani a fare impresa agricola a mettersi in gioco insomma per creare queste produzioni di qualità torniamo sul tema di Expo perché giustamente si parlava di fiere internazionali il dirigente ci anticipava quella che si terrà in Germania a Colonia a Colonia tra l'altro proprio in occasione di Expo è stata insomma firmata questo protocollo di questa collaborazione con questa fiera quindi insomma ci sono già dei risultati interessanti positivi che avete portato a casa da Expo sì certamente certamente aver aver collocato questa la partecipazione della regione Calabria a questa fiera Nuga nel contesto di Expo è un fatto mediatico importantissimo perché come dire ha una risonanza ha una risonanza diciamo molto molto positiva e quindi noi pensiamo attraverso la partecipazione di Expo ma ad Anuga di dare alle nostre aziende una possibilità concreta di far vedere i prodotti sul mercato anche qua stiamo facendo diciamo uno sforzo perché uno sforzo uno sforzo per cercare di portare ad Anuga tutte le aziende che hanno fatto hanno fatto richiesta per cui come dire rispetto ad un'ipotesi iniziale di avere uno stand per poter ospitare diciamo 40 aziende mi pare di capire di ricordare che le richieste per food sono 45-50 stiamo cercando di imbarcare tutti appunto per dare la possibilità a tutti di partecipare a un evento a quale io non ho mai partecipato perché è da poco che mi occupo di agricoltura ma che i miei collaboratori mi dicono che è una cosa di tutto di tutto di tutto rispetto e quindi c'è non solo la possibilità di far conoscere i prodotti ma lì ovviamente è una fiere quindi ci sono i buyer che come dire dove possono anche fare accordi di natura commerciale noi ovviamente non interveniamo sotto questo aspetto degli accordi di natura commerciale perché attengono attengono al rapporto impresa produttore esportatore o importatore però noi offriamo il contenitore dentro il quale come dire queste cose sono diciamo sono possibili poi ripeto c'è questa nostra precisa volontà per quanto riguarda il Vinitali 2016 di avere tutte le aziende agricole che producono vino sotto un unico cappello che è il cappello della regione Calabria avete già iniziato a parlare con le aziende abbiamo già iniziato a parlare su questo insomma come sta andando che dico sta andando sta andando bene perché comunque c'è sempre qualche azienda che vuole diciamo una una propria visibilità ma credo che alla fine riusciremo a convincerli tutti tra l'altro a proposito di vini si parlava anche della casa dei vini insomma Arcirosi era discusso sì noi anche su questo aspetto del vino noi attualmente siamo presenti a Expo a Expo non so per chi c'è stato c'è un un padiglione dove è possibile assaggiare tutti i vini i vini diciamo i vini italiani c'è un padiglione sopra è proprio un padiglione di Vinitali ci sono dei distributori automatici tu vai lì con una tessera e assaggi i vini puoi fare un assaggio di tre vini ecco noi abbiamo siamo presenti la fine dal mese di dal mese di giugno e continuerà fino al 31 ottobre con 40 aziende nostre della Calabria che hanno collocato i loro vini e quindi il popolo può anche assaggiare i vini calabresi è un assaggio diciamo un po' un po' esoso ma questo non è un assaggio un po' esoso ma questo non dipende purtroppo da noi la partecipazione delle aziende a queste vende è del tutto gratuita perché come noi abbiamo come regione calabria attraverso i galli i gruppi di azione locale abbiamo come dire locato lo spazio lo spazio necessario e che il produttore mette solo il vino le bottiglie di vino che che vengono che si consumano che si consumano lì ma che per loro sia anche una vetrina una vetrina importantissima visto che siamo quasi in chiusura Fulvia Carigiuri cos'altro possiamo dire per concludere questa possiamo dire che la scommessa che nasce da Expo è molto più grossa perché insomma la bravura adesso sta nel far scendere i buyer anche qui da noi nel cercare di coinvolgerli e fargli vedere il territorio sto facendo questo perché noi tra l'altro come la Cili stiamo seguendo con un camera calabria stanno arrivando buyers ma quella è la scommessa reale nel senso che il ritorno per le aziende agricole per le aziende agrituristiche è insomma anche questo perché poi non ci dimentichiamo che c'è un settore anche di turismo collegato al settore agricolo che è anche importante e avremmo tanto da mostrare insomma tante belle realtà anche lì da mostrare e con Expo e vincendo quest'altra scommessa di riuscire a far scendere le persone insomma potrebbe essere un ritorno che ci viene veramente insomma a favore e rilanciando le nostre potenzialità perché poi insomma di questo stiamo parlando di far vedere quello che sappiamo fare insomma è uno strumento di questo va accolto dal inizio alla fine anche con la presenza insomma dei vini o di quant'altro per quanto si diceva i Sosi e anche lì magari se ci avessimo pensato prima chi vuole andare a visitare Expo e deve partire dalla Mezzia il costo del biglietto aereo è sempre troppo elevato per andare a Roma per andare a Milano quindi anche magari fare un pacchetto un pacchetto mi pare che l'avessero ma l'hanno fatto solamente da Milano a scendere giù non era vero il contrario quindi i calabresi non potevano andare a Milano favorivamo chi voleva scendere il che piacevolissimo ma anche noi calabresi andare a visitare con un prezzo insomma abbastanza più accessibile accessibile concorrenziale sarebbe stata cosa buona e giusta a mio modo di sto parere anche perché rispettando la dura legge della domanda dell'offerta essendoci molta domanda come dire all'Italia in questo periodo avrebbe dovuto ridurre un attimo non ha ridotto i prezzi ma come dire li ha alzati questo traccate chiaramente alla Mezzia invece a Reggio Calabria mi pare che sia in via di soppressione ormai siamo a un livello per Milano-Rinate quindi diciamo che come infrastrutture se l'agricoltura traina e sembra decollare comunque ce lo auguriamo che sarà sempre così tutto il resto insomma ma solo il trasporto sulle gomme ci deve parecchio su quei costi che dicevamo prima abbiamo solo le gomme e le gomme costano tantissimo costano tantissimo peraltro in questo periodo anche l'export diciamo dell'agricoltura della prima di Sibare ha avuto notevole difficoltà e anche costi per quanto riguarda la chiusura dell'embargo dell'embargo e del ponte viadotto Italia noi abbiamo avuto l'anno scorso la sorpresa dell'embargo quindi il camion con le pesche stavano per andare sulla frontiera e dicono da oggi non entri pensavamo che fosse una barzelletta ma veramente dall'oggi al domani per l'embargo russo per noi il mercato russo è uno dei più importanti insomma in termini proprio di sostanziali e ci siamo visti questi camion fermi ma poi dall'inso ma tutto quello che era destinato al mercato russo abbiamo dovuto tra virgolette svenderlo perché insomma non potevamo piazzarlo diversamente poi l'ennesima batossa dell'autostrada dell'autostrada bloccata che comunque è un piccolo pezzo nel senso che si entra e si esce in una ventina di minuti ma per i tir che devono trasportare dei prodotti non è assolutamente agevole allora Diego Malamaci parliamo insomma dei progetti futuri della vostra azienda i progetti come ho già accennato prima sono quelli di crescere e di produrre una quantità maggiore del nostro prodotto di farlo conoscere in Calabria che ci stiamo cercando in tutti i modi di far capire che è un prodotto calabrese molto difficile perché non è nella nostra cultura quindi però diciamo che piano piano sia i ristoratori sia le aziende capiscono diciamo gli diamo quell'input di curiosità e quindi si informano guardano poi mi incontrano dicono sai che veramente lo zafferano si faceva in Calabria quindi Calabria è stato anche di zafferano lavorando l'Expo ci ha dato una mano per farci conoscere la regione Calabria anche infatti secondo me sta lavorando bene col fattore di fare queste fiere internazionali sono molto contento perché sono organizzate benissimo quindi io da partecipante come azienda posso dire che sono veramente benvenuta bene questo è un bel feedback direttore grazie bene io vi ringrazio e vi saluto grazie alla dirigente Carmelo Salvino della regione Calabria Dipartimento Agricoltura grazie a Fulvia Caligiuri aziendatore di Mezzo Milk presidente di Confagricoltura Cosenza grazie a Diego Mallamaci dell'azienda agricola Mallamaci per essere stati con noi grazie a voi come sempre per averci seguito noi torniamo la prossima settimana sabato prossimo grazie a tutti